18.34 Radio DJ, la Liguria protagonista della puntata di Pinocchio di stasera, un'altra carrellatina di messaggi deliziosi, stasera un'altra carrellatina di messaggi deliziosi, Pinocchio, la cuore di Genova è bellissima, pensano i calametti che sono dolcissimi, pensano... Stasera 34, 18.34 Radio DJ, la Liguria protagonista della puntata di Pinocchio di stasera, un'altra carrellatina di messaggi deliziosi, Pinocchio, la cuore di Genova è bellissima, pensano i calametti che sono dolcissimi, ma tu invece cosa sei? Una bambina pesciolino? Buongiorno ragazzi! Ma cosa è la mamma? E' la stessa cosa. I calametti? Il saluto di un buongiorno alla Liguria, è una bambina di Milano, di un buongiorno. Buon saluto, è un buongiorno di saluto, è un buongiorno. Grazie.